Benvenuti amici di Ivi TV, siamo di nuovo qui negli studi e vi proporrò un'altra clip. In questa clip vi parlerò di un flash mob d'amore. Tutto avviene per caso. Dopo un giorno di lavoro volevo rilassarmi, farmi una birra all'Eppy Hour in piazza Roma, che addirittura c'è un gruppo rock e la Movida si inizia a sentire. Quando improvvisamente mi colpisce un gruppo di persone che sorridenti provano dei balli così, per caso, in piazza. Allorché mi informo con i passanti e mi spiegano che Donatella Galati, che tra qualche giorno si sposa, vuole fare una sorpresa al suo Dino, aiutata da Floriana Catania e Ambra Ricceri, ballerina biancavillese. Qualche istante dopo parte la musica e inizia il flash mob, dove l'emozione colpisce gli ignari passanti e Dino. Soprattutto quando la ragazza sfoggia il velo e dei cartelloni con frasi dedicate. Il bacio finale è da vissero felice e contenti in cornice a un momento indimenticabile. Quindi, che dire, viva gli sposi da Ivi TV! Soprattutto quando la ragazza sfoggia il velo e dei cartelloni con frasi di Dino, aiutata da Vino, aiutata da Vino, aiutata da Vino, aiutata da Vino. O ci dicono, f conquered alto, d' guide igreelle per il seg виделi. Soprattutto quando la ragazza sfoggia da Vino, aiutata da Vino, aiutata da Vinestima, aiutata da Vini, aiutata da Vino, 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 aiutata da Vino? Diチャンネル guida di A. Vino! Fino! Rologna e Pel これ the A��, al Safe G joke! L'Ivo Coke spiario! Grazie a tutti.